Cominciato una settimana di fitti contatti per il direttore sportivo del Bari Ciro Polito, dopo l'ufficialità del tecnico Mignani, ora si può cominciare a programmare quella che sarà la colonna vertebrale tecnica della squadra dell'allenatore ex Modena. Le tensioni si sposteranno subito sulla tre quarti se Mignani vorrà partire dal 4-3-1-2 come modulo di base, mentre in avanti ci sarà da individuare il bomber da affiancare a Mirco Antenucci, considerato centrale da Polito nel progetto bianco-rosso, come ha già anticipato in conferenza stampa. Sicuramente nel parco attaccanti ci sarà anche Simone Simeri rientrato dal prestito all'Ascoli, la punta partenopea ritroverà proprio il direttore sportivo Polito che lo ha voluto in terra marchigiana a gennaio, quando ha lasciato la squadra di Gaetano Teri per volare in Serie B. Sono importanti anche dal punto di vista sentimentale per Simeri perché si è sposato con sua moglie Angela con volando a nozze prima del ritorno definitivo a Bari che arriverà per inizio luglio. Capitolo ritiro, crescono le possibilità che i ragazzi di Mignani svolgano la preparazione estiva a Storo, un piccolo comune in Valle del Chiese e dovrebbe cominciare tra il 10 e il 15 luglio. Insomma è quasi tutto pronto per la nuova stagione.